Ciao, ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Buona domenica, anche se immagino che siate ancora abbastanza abbattuti e penso che abbiate ragione nell'essere abbattuti, nell'essere tristi. Oggi voglio fare una chiacchierata insieme a voi, perché in realtà ieri vi avevo promesso un altro video che era quello di analisi di alcune situazioni di gioco in Napoli-Juventus. E mentre mi sono messo lì per iniziare il thread su Twitter, per iniziare a sviscerare un po' i dati di Soccerment, ho proprio pensato ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di perdere tempo ad analizzare una partita che nel complesso è stata a senso unico? Quindi vorrò evidenziare e mostrarvi una sola cosa, magari verso la fine di questo video. Ho preparato una grafica in cui andiamo a vedere il report di Soccerment, comunque trovate tutti i link di Soccerment qui sotto in descrizione. Se volete andare a vedere anche voi sulla piattaforma i vari dati a disposizione per Napoli-Juventus o anche per altre squadre o anche per altre partite, nello specifico quelle che vi interessano, magari siete anche malati di fantacalcio e volete vedere le statistiche nel dettaglio dei calciatori che allenate, robe del genere, quindi vi lascio il link per Soccerment qui sotto in descrizione e poi giuro che andiamo dentro il discorso e non mi fermo più. Qui sotto in descrizione vi lascio anche un altro link del canale Tutti Teorici. Perché? Perché oggi alle 15 e ricordatevi sarà ogni 15 del mese alle 15, ogni 15 alle 15 uscirà un nuovo episodio sul canale di Tutti Teorici che è un podcast che abbiamo creato io, Sick Wolf e Luca Mastrangelo. Oggi esce il primo ospite, il primo ospite è un portiere che comunque ha fatto la storia della nazionale italiana e purtroppo dell'Inter che è Walter Zenga che comunque è stato veramente un giocatore incredibile ai suoi tempi e quindi abbiamo avuto l'opportunità, la fortuna, la possibilità di intervistare Walter Zenga. Il primo episodio è online oggi alle 15 sul canale Tutti Teorici, link in descrizione, non perdetevelo assolutamente, anzi andate a fare un commentino e fateci sapere cosa ve ne pare perché è il progetto del 2023, quindi spero che possa venire fuori una bella cosa. Non ho voglia di analizzare la partita di venerdì sera proprio perché credo che sia stata una partita quasi tutta a senso unico, dico quasi perché secondo me il primo tempo è stato giocato tra virgolette abbastanza alla pari, dico tra virgolette perché in realtà il Napoli è stata la squadra che ha dato più impressione di essere forte all'interno del campo perché comunque ha avuto un dominio territoriale di un certo livello, ma se guardiamo nelle occasioni, le occasioni che ha avuto il Napoli e anche i gol che ha segnato il Napoli sono state disattenzioni della Juventus, un po' come tutti i macro goal del Napoli, infatti sempre su Soccer mentre stavo guardando che alla fine gli XG sono di 2,38 per il Napoli e 0,83 per la Juve, che sono bassi per la Juve, alti per il Napoli, ma sicuramente non descrivono un 5-1, quel 5-1 è stato causato da varie disattenzioni dei singoli e come dicevo, secondo me nelle pagelle anche un po', anzi anche un po', un po' tanto, un po' tanto, da una cattiva lettura, una cattiva gestione, da una cattiva preparazione della partita, quindi da parte di Massimiliano Allegri. Poi andiamo nel dettaglio, quindi vi faccio vedere subito la grafica. Credo che questo grafico del Cumulative X Goal racconti un po' tanto della partita, e cioè una Juve che arriva a fine primo tempo e ha occasioni tanto quanto il Napoli, tanto quanto il Napoli si avvicina veramente nella creazione di occasioni da gol pericolose tanto quanto il Napoli e poi nel secondo tempo calma piatta, encefologramma piatto e col Napoli che invece aumenta il giro del motore perché sente puzza di cadavere, vede che l'avversario è morto e quindi giustamente va a mangiare sul nostro cadavere e arriva a segnarci altri tre gol, secondo me potevano essere anche di più, tra disattenzioni della Juve, ripeto, ma soprattutto per quanto mi riguarda, per una partita preparata in malo modo perché tu non puoi permetterti a questi livelli di non giocare un secondo tempo. E ancora tra giochisti e risultatisti si è riaperta un po' la discussione su YouTube, nei commenti, su Twitch, su Twitter e dappertutto. Io ragazzi, lo dico nella più totale tranquillità e nella più totale serenità, mi sono un po' rotto il cazzo. Mi sono un po' rotto il cazzo perché se guardi i commenti che lasciano, magari sto sulle palle, ma credo che questa sia una cosa che condividono anche i miei colleghi perché ovviamente ci sono quelle parti di community che sono un po' marce, sono un po' marce e non capiscono, non capiscono. Perché io un giorno sono allegriano, io un giorno sono anti-allegriano, io un giorno difendo la Juve, io un giorno sono contro la Juve. Queste sono le cose che mi capita di leggere, ma mi capita di leggere per un motivo. Che quello che accade io racconto. Io non partirò mai per partito preso contro qualcuno, non andrò mai contro qualcuno perché voglio visibilità, notorietà o per far parlare di me, perché ormai internet è fatto così. Più la spari grossa, più viene portato dalla cassa di risonanza, più viene amplificato, più viene conosciuto. A me sinceramente questa roba non interessa. E sono contentissimo di avere una community forte, molto forte, lo zoccolo duro della community è molto forte e comprende, capisce e condivide questo mio modo di ragionare. Quando le cose si erano messe male inizio anno, non mi sono tirato indietro nel dire che avrei cambiato tranquillamente l'allenatore. Quando abbiamo concluso la prima parte di stagione prima del Mondiale, nonostante le sei vittorie di fila, sono stato qui a dirvi ragazzi, ma sei vittorie di fila, d'accordo, fa un piacere, è ovvio che vederla in posizioni di classifica migliori rispetto all'inizio è piacevole. Non è sicuramente qualcosa di brutto, però non possiamo dimenticare chi siamo, da dove veniamo, quello che è successo, che siamo stati eliminati in Champions ai gironi, che abbiamo vinto una sola partita sulle sei disponibili, che abbiamo fatto veramente una cosa vergognosa in Europa e che comunque anche in Italia abbiamo spesso e volentieri lasciato dietro delle partite alla nostra portata per Pegrizia, perché sono state preparate male, perché si è seguito il canovaccio tattico dell'anno scorso, perché semplicemente la Lega 2.0 fino a questo momento rimane e probabilmente rimarrà un fallimento, una delusione. Non è che sei vittorie di fila ti cancellano quello che sta accadendo, è così come non te lo potevano cancellare, se non te lo cancellassero te lo cancellano otto, ribadisco rimane sempre solo un qualcosa di migliore, vedere la Juventus in quella posizione di classifica, ma io nel momento in cui decido di esprimere la mia preferenza su un cambio in panchina, per me quello rimarrà fino a fine stagione. Perché? Perché non vedo la possibilità di migliorarla come vorrei io, come pretende e come merita la storia della Juventus. Quindi non mi sono mai nascosto da questa cosa, non mi sono mai tirato indietro. L'unica cosa che mi ha fatto rivalutare questa posizione è quello legato al procedimento sportivo che potrebbe esserci in questi giorni, proprio impareremo se verrà riaperto il caso Plus Valenze da parte della Juventus. In questi giorni arriveremo ad avere il nuovo CDA, ma non perché, dato che non c'è più Agnelli, allora mi va bene tenere Allegri, perché no, io sono assolutamente deluso da Massimiliano Allegri e da quello che è stato il suo approccio alla Juventus in questo anno e mezzo da allenatore della Juve, perché non ha portato risultati, perché non ha portato miglioramenti, perché anche oggi non sembra esserci un modo vero e proprio di salvare questa stagione, perché lo scudetto, se lo scontro è diretto poi non lo vinci, per rientrare almeno nella lotta a scudetto, è diventato difficile vincerlo, sarebbe stato difficile vincere lo scudetto anche vincendo ieri a Napoli, figurati, andando a casa prendendone cinque con un'umiliazione storica, perché la Juve era trent'anni che non prendeva cinque gol in Serie A. Sicuramente quello non è il modo migliore per sistemare le cose. In Coppa Italia, magari vincere la Coppa Italia, ma il tifoso di Juventino lo sa, la Coppa Italia è il contorno, non è la portata principale. L'Europa League, vince l'Europa League, mi farebbe molto piacere, ma vi dico la verità, anche vincendo l'Europa League, questa stagione non la valuterei in modo super positivo. L'Europa League mi farebbe molto piacere vincere, non ho mai visto vincere, non vinciamo un trofeo internazionale da anni ormai, l'ultima volta che avevo vinto la Coppa dei Campioni era stata a Vialli proprio, quindi mi farebbe molto piacere vincere l'Europa League. Però è ovvio che nessuno ti regala niente, per vincere l'Europa League serve lavorare e fare di più. E quindi non è che io avrei confermato Allegri, adesso io leggo i commenti, è tornato allegriano, è un anti-allegriano. Ragazzi a me è quello che interessa la Juventus. La figura di Massimiliano Allegri la commento per forza di cose perché è allenatore della Juventus. Per me il lavoro di Allegri era insufficiente prima, era insufficiente dopo e rimane insufficiente adesso. Poi è ovvio che se da qui alla fine dell'anno me le vince tutte, e vince il campionato, mi ricredo e dico che mi sono sbagliato perché qua tante persone dire mi sono sbagliato fanno fatica. Preferiscano dire hai visto, avevo ragione, te l'avevo detto. Ieri sera ho visto persone festeggiare, persone che tifano Juventus festeggiare nei commenti. Finalmente Allegri ha perso, finalmente Allegri qua, finalmente Allegri là. Io lo dico nella più totale sincerità, non vedo l'ora che Massimiliano Allegri smetta di essere allenatore della Juventus. Non vedo l'ora, perché è il posto avvelenato. È impossibile, è impossibile parlare di calcio in questo momento nella community juventina. Non con tutti, per fortuna non con tutti. E ripeto, per fortuna su questo canale c'è una community forte, uno zaccolo duro forte che ama parlare di calcio in maniera intelligente e seria perché se provi a fare un mezzo elogio ad Allegri sei allegriano. Se provi a fare una mezza critica ad Allegri sei anti-Juventino. Ora ragazzi è ora di svegliarsi, è ora veramente di svegliarsi e fare un passo avanti a livello di ragionamento e di mentalità. Perché qualcuno perché ho intitolato Allegri trolla in conferenza stampa ha pensato che io mi sia eccitato a pensare Allegri che trolla in conferenza stampa. Dove siamo? Ma dove siamo? Ragazzi, la situazione della Juve è chiara. Non c'è un'area sportiva in questo momento. L'area sportiva è Allegri in questo momento. È l'area sportiva. La Juventus oggi non può pensare a un cambio in panchina. Perché il cambio in panchina andava fatto quando era ora. Quando la situazione era quasi irrecuperabile a livello psicologico, recuperata parzialmente a livello psicologico, non recuperata a livello collettivo di squadra, perché i risultati, questi non sono risultati da Juventus, non lo sono, perché non puoi prendere in considerazione solo la striscia positiva e prendere in considerazione 18 partite di campionato. E sono 9 fatte bene e 9 fatte male, a livello di risultato, bene o male, siamo lì. E anche se fosse 60-40 non è una percentuale da Juventus, da squadra che non può accontentarsi di arrivare nei primi quattro, deve cercare di lottare per le primissime posizioni sempre, non può accontentarsi di uscire dall'Europa, non può accontentarsi di fare due anni senza vincere, non può accontentarsi di fare un anno senza titoli, non può accontentarsi di non essere nella lotta, non può accontentarsi di arrivare in Champions l'ultima giornata perché gli altri si suicidano, non può accontentarsi di essere quello che è da anni a questa parte. Non può accontentarsi la Juventus di essere questo. Non può. Ma in questo momento la Juventus non pensa, perché non può pensare, a un progetto sportivo. E quindi io, ragazzi, sono il primo che non è soddisfatto da quello che vedo. Guardo le partite della Juve, sto male. Perché facciamo cinque azioni, quattro, tre azioni in una partita che possa essere il Napoli, perché tre o quattro azioni le abbiamo fatte, o che possa essere la Cremonese. E non mi piace. Cioè, sono qui, le guardo, non mi piace. Non ci sono gesti tecnici, non c'è un'impostazione precisa per far male all'avversario. Quante volte abbiamo detto, ragazzi, facciamo i tiri, perché di Maria driba gli uomini, passa il pallone. Io capisco che quella cosa la puoi fare quando è una squadra di un certo tipo, che ti può rendere. Ma quando non ce l'hai bisogna inventarsi qualcos'altro. Se no si rischia di fare l'anno copia e incolla l'anno scorso. L'ha capita? No, non l'ha capita. Andrà avanti così, perché è fatto così. E allora tanto vale arrivare a giugno, perché oggi come puoi pensare di esonerare Massimiliano Allegri? Ma non perché non se lo meriti. Che ribadisco, anche solo uscire dalla Champions ai gironi con tre punti, fare una figuraccia del genere, per me non si cancella. Ma come fa a cancellarsi? Come può cancellarsi? Non si può. Anche vincendo lo squadro non lo cancelli. Anche vincendo l'Europa League non lo cancelli. Perché l'Europa League la vinci per quella roba lì. E io preferisco andarmi a giocare in Champions. Non perché penso di poter vincere la Champions. Ma penso di non essere nemmeno una squadra che deve uscire ai giorni di Champions League per andare in Europa League. Penso anche di non essere una squadra che deve per forza vincere Cremonese e Udinese all'ottantacinquesimo minuto. Poi è ovvio che esulta. Ma ci mancherebbe altro che non esulta se fa gol a Juventus? Ma ci mancherebbe altro. Poi mi dice, sei soddisfatto della Juventus? No! E quante volte abbiamo parlato? Mille! Quindi sono allegriano, sono anti-allegriano e o di come vi va più comodo? Di come fa più comodo? Va bene? Allora ragazzi continuiamo a parlare per estremi. Continuiamo a parlare di nulla. Perché continuiamo a parlare di nulla. Allora esoneriamo Allegri. Lo viene Allegri out. Esoneriamolo. Esoneriamolo. Siamo a metà gennaio. E il 15 siamo a metà gennaio. Lo esoneriamo? Benissimo, esoneriamolo. Poi, io sono convinto che Allegri non sarà l'allenatore dell'Ariventus l'anno prossimo. E sono anche molto contento di questa cosa. Non solo per i risultati sportivi, ma ripeto, perché ora veramente di togliere delle figure ingombranti, pesanti, nauseanti, perché non si può più parlare di pallone. Non si può più parlare di pallone. Perché qualsiasi cosa viene detta deve essere per forza estremizzata ad andare a categorizzare sulle figure di Massimiliano Allegri. Bisogna ricondursi e capire, tradurre. Non hai detto che Allegri è una merda? Sei allegriano. Hai detto che Allegri ha sbagliato? Non tipi per la Juventus. Eh ragazzi, sono guerre di religione. Sono guerre di religione e sono pericolosissime. Pericolosissime. Perché qui a volte si dimentica che l'unica cosa importante è la Juventus. Non l'allenatore della Juventus. E nemmeno avere ragione. Perché io sono il primo a essere contento di sbagliarmi quando vi dico non vinciamo lo scudetto. Se lo vinciamo sono il primo a essere contento. Sono il primo a dire ho sbagliato. Il primo felice di dire ho sbagliato. Non credevo al passaggio del turno in Champions. Avrei festeggiato come un drago a passare il turno in Champions. Perché tifo per la Juventus, non per la mia idea. Non tifo per Massimiliano Allegri, non tifo per la mia idea, tifo per la Juventus. Ma troppe volte questi due pensieri sono due linee parallele che non si incontrano mai. C'è da resettare un po' il modo di fare. Perché io credo che in questo momento il calcio in Italia sia vissuto in maniera pessima. Da tanti, non da tutti, per fortuna. Ed è la mia piccola speranza. ed è anche posso essere sborone per una volta il mio piccolo orgoglio. Aver radunato tante persone che non si limitano solo a quello. Non si limitano solo all'etichetta di merda. No. Voglio imparare il pallone. Voglio analizzare il pallone. Voglio capire. E non sto dicendo che se uno dice una cosa e uno dice l'altra è giusto o sbagliato. Ognuno può dire quello che vuole. Può essere fan di Allegri. Può essere hater di Allegri. Può voler la conferma di Allegri l'anno prossimo può non volere Allegri in panchina l'anno prossimo. Non me ne frega niente. Non è questo il punto. Non è il pensiero. Non è quello che pensi. È il modo in cui lo dici. È quello come ti esponi. Come ti poni. È quello. È quello che se uno dice una virgola allora bam iniziamo a muovere la dettina sulla tastiera. Come se fosse colpa mia, no? Io pieno di commenti da parte di due o tre utenti avete visto dove siete arrivati questa situazione a Juve è anche colpa vostra che siete complici colpa mia va bene mi assumo tutte le responsabilità la Juventus va male perché ho sbagliato io a parlare avanti a un microfono in camera ho sbagliato io è colpa mia